Se che fiede, altro scrittore, cosa ne pensi? Secondo me la chiesa è molto omertosa e silenziosa in questo momento e da che se ne dica, dal 1400 il simonismo, il nicolaismo, la pedofilia e il sesso all'interno dell'istituzione c'è stata e continua ad esistere. Io un anno fa sono passato da fervente cattolico, non solo laico ma proprio, al buddismo che non è una religione ma una filosofia e semplicemente la chiesa è diventata un'istituzione di potere non solo spirituale ma anche economico e di sicuro non rappresenta Dio e neppure una vera e propria fede. Se pensiamo che Gesù, figlio di Dio e comunque fondatore del cristianesimo, dell'ebraismo predicava in una barca in mezzo al mare, portava via dalla strada gli esatori delle tasse, parlava con le donne, insomma prendeva la peggiore società e il Papa circondato dagli ori e da missionari dimenticati dovrebbe ricordarsi questa figura iniziale e povera di Gesù.